I carabinieri della stazione di Auletta hanno consegnato ad una 87enne impossibilitata a raggiungere il vicino ufficio postale la propria pensione. La donna ha chiamato il comandante della stazione di Auletta per avere un supporto per ricevere la propria pensione, il quale ha ritirato per suo conto la pensione recapitandogliela a casa. Poste italiane e l'arma dei carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiori a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze delle loro abitazioni. L'accordo è parte del più ampio sforzo messo in atto dai due partner istituzionali, ciascuno nel proprio ambito di attività, per contrastare la diffusione del Covid-19 e mitigarne gli effetti, anche mediante l'adozione di misure straordinarie volte ad evitare gli spostamenti fisici delle persone ed in particolare dei soggetti a maggior rischio, in ogni caso garantendo il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. L'iniziativa permette anche di tutelare i soggetti beneficiari dalla commissione di reati al loro danno quali truffe, rapine e scippi. Numerose richieste di questo tipo pervengono ai carabinieri da parte di persone anziane la cui vita è più a rischio in caso di contagio da Covid-19.